Io vi presento la professione del barman. Il barman è una professione nella quale non si finisce mai di imparare, dato che nei anni c'è stata una grande evoluzione dai cocktail più semplici ai cocktail che hanno bisogno di un'elaborazione. Il barman usa ingredienti ad alta qualità. Ci sono alcune tecniche di miscelazione tra le quali una di queste è il flair. Il flair è una tecnica di miscelazione acrobatica dove il quale il barman fa roteare le bottiglie quindi intrattenendo anche il cliente. Le altre tecniche di miscelazione sono quelle di shakerare oppure andare a miscelare direttamente la bevanda nel bicchiere dove andremo a servire il nostro cocktail. Il barman inoltre va a collaborare con il barista che comprende tutta la parte della caffetteria. Io sono una barista e mi occupo soprattutto nella specializzazione di creare bevande calde. Negli ultimi anni si è data soprattutto la ricerca del caffè di qualità in quanto la migliore reputata dai baristi di oggi è la tipologia arabica. Ci occupiamo soprattutto di creare nuove innovazioni in questo ambito. Inoltre ci occupiamo non solo di caffetteria ma anche nella conversazione e nella comunicazione con il personale e soprattutto con i clienti. È importante al giorno d'oggi la comunicazione soprattutto nel bar in quanto è un luogo di silenzio, di relax e per gustare una buona colazione a una buona pausa. Il bar quindi ci permette di degustare i caffè più innovativi in compagnia e in armonia. E con questo noi abbiamo concluso. Arrivederci e vi aspettiamo nei nostri bar.